Ancora proteste sui tempi lunghi per la prenotazione di esami diagnostici. Un cittadino nisseno ha segnalato in redazione che per sottoporsi a una colonoscopia dovrà attendere il mese di marzo del 2023 e recarsi a Gela. Su questo aspetto il responsabile del CUP Alfonso Girone Cipolla, da noi sentito recentemente su altre segnalazioni simili, ha spiegato che bisogna prendere in considerazione quelli che sono i tempi dettati dalle liste di attese dal tipo di priorità, in base anche alle disposizioni del Ministero della Salute, e che gli esami vengono prenotati sulla base della formula degli ospedali riuniti, garantendo di poterli effettuale nella prima data utile e nella sede con la disponibilità temporale più ravvicinata. Il cittadino ha anche chiesto l'intervento della Commissione Consiliare Sanità e la Presidente Matilde Falcone, che abbiamo raggiunto telefonicamente, ha spiegato che nei prossimi giorni verrà avviato un ciclo di incontri con i vertici dell'Asp Nissena per discutere di tutte le problematiche riguardanti la sanità nissena. Il prossimo 26 luglio la Commissione Sanità incontrerà i vertici dell'azienda sanitaria provinciale per discutere dei problemi del pronto soccorso. La consigliera Falcone su questo punto ha precisato che uno degli argomenti riguarderà i cosiddetti accessi inappropriati al pronto soccorso, e cioè i casi di quei cittadini che si rivolgono al pronto soccorso stesso per problemi spesso di competenza dei medici di base o delle guardie mediche, che finiscono per intasare un reparto destinato invece alle emergenze più gravi.